a volte non tutto il male viene per nuocere un nuovo smartphone al miglior prezzo su internet da oggi c'è poste shop il nuovo e commerce di poste italiane dove poter acquistare tantissimi prodotti selezionati per magari anche un nuovo tostapane se cerchi qualcosa online poste shop l'e-commerce semplice e sicuro